Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi completiamo la nostra bellissima costruzione del nuovo magazzino, signori, più o meno sì, più o meno no, non lo so, però ci proveremo, ci proveremo. Allora, signori, intanto vi ringrazio per i like, per i commenti, per i giungimenti e per il supporto che date alla serie, vi ricordo di iscrivervi al canale così cerchiamo di raggiungere i 2000 iscritti il prima possibile, signori. Allora, che novità ho fatto? Assolutamente niente, ho semplicemente levato tutto il tetto e ho deciso che la struttura del nostro magazzino sarà questa, signori, tettino così, con lo slab, così questa si può aprire tranquillamente e poi mettiamo questo cesellato qui come colonne, come colonne, in modo da fare tutto il disegno della stanza così. Dite che ci basteranno tutte queste colonne? Non lo so, tutte queste casse, forse no, signori, forse sono un po' pochine, ho fatto un calcolo, sono su per giù 40, qui ho sbagliato qualcosa, sì, questo deve essere messo di qua e questo deve essere spostato di 1. Che altro vi stavo dicendo? Che praticamente così e poi metteremo le altre là e così via. Prima però voglio completarmi il tetto, così abbiamo la certezza che di questi slab non ce ne servino più. Detto sì, il tetto sarà una gran rottura di scatole, poi ci vorranno tanti slab, posizione di slab e una gran rottura di scatole, ma noi siamo qui per romperci le scatole, signori, decisamente sì, decisamente sì, quindi piano piano procederemo alla sistemazione anche del tetto. Poi ho deciso che voglio fare una seconda rampa di scale, ho deciso che voglio fare una seconda rampa di scale, signori, ebbene sì, ho deciso che voglio fare una seconda rampa di scale in modo tale da rendere più piena la nostra salita dell'albero della vita e la nostra salita del nuovo magazzino, signori, non è più un albero della vita, è il magazzino, è il nostro magazzino, il nostro nuovo magazzino. L'ho detto che è il nostro nuovo magazzino? Sì, l'ho detto, l'ho detto, va bene. Procediamo così con tutto il tetto, potevo mettere il vetro, sinceramente, corsino di po' in modo tale da fare il magazzino a giorno praticamente, ma non mi intusiasmava l'idea più di tanto. Metteremo questo, poi ho recuperato della Glovestone, quindi metteremo poi tutta la Glovestone da qualche parte, potremo mettere anche le, 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 come cazzo, allora si chiama? No, ho finito gli slab, signori, questa cosa è gravissima, ho finito gli slab e non è neanche finito un giro di, 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 di tetto, gravissima questa cosa. Va bene, va bene, ma non ci scoraggiamo, non ci scoraggiamo, signori, non ci scoraggiamo, procediamo piano piano, che i problemi si risolvono tutti. Altri 64, altre 64, altre, altra caterva, questi il trasformiamo pure, ok, ora dovremmo, ne abbiamo decisamente qualcuno in più, qualcuno in più. Ripartiamo da questa parte. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato, e va bene, dovremmo inventarci qualcosa, signori. Ho sbagliato la trasformazione delle, delle, questi non li posso riportare, no, non li posso riportare in nessuna, posso fare altra, altra tipo di roba. E va bene, dobbiamo inventarci qualche altra cosa, signori, dobbiamo inventarci qualche, dobbiamo inventarci un disegno particolare del tetto, un disegno particolare del tetto. Intanto leviamo qualcosa che non ci serve al momento, qualcosa che al momento non ci serve in modo tale da fare un attimino di spazio, perché abbiamo fatto una cappellata terribile. Recupera queste altre due, queste di qua, trasformale prima in blocchi questi. Ok, e dove è l'altro? Questo di qua, trasformo in blocchi questi, e poi questi li trasformi tutti in slab, così, e questi poi li trasformi tutti in slab, così. Va bene, e quindi faremo un doppio disegno, signori, faremo un doppio disegno, faremo una striscia laterale con questi slab, e poi andremo avanti con gli altri slab, perché ho sbagliato a trasformarli, signori. Ho sbagliato decisamente a trasformarli, però se non sbaglio poi sotto giù abbiamo altra di questa pietra. Dovremmo averne in abbondanza di questa pietra, quindi dovremmo riuscire a completare il tutto. Nel frattempo è calata di nuovo la notte, cala la notte ogni due minuti come se non ci fosse un domani, riesce a rompermi solo questo? Sì, c'è riuscito, dai. Andata bene. Ok, va bene, signori, continuo off camera a posizionare tutto quanto il tetto, e poi ci vediamo appena ho finito questo, vediamo che disegno ne esce fuori. La vedo abbastanza difficile, però qualcosa dobbiamo inventarci. Purtroppo c'è stato un piccolo errore tecnico-tattico. Ok, signori, abbiamo finito il tetto. Abbiamo finito il tetto, ci siamo riusciti, abbiamo fatto una sorta di mosaico. Però, 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 però è andata, è andata. Ora, dobbiamo semplicemente riuscire a recuperare un altro poco di legno, sì, di legno, così possiamo fare qualche cassa così, quantomeno la possiamo riuscire, riusciamo a farla. Per dare un senso di, no, e tu mi sei scappato, di magazzino, perché se non ci mettiamo manco qualche cassa, che cazzarò di magazzino è? Non lo so nemmeno io, ok, quindi recuperiamo il legno così, questo lo spostiamo perché ora arriveranno gli alberelli. Andiamo a dormire, andiamo a dormire e questo step è fatto pure. Andiamo a dormire, dobbiamo fare la scala dall'altro lato, non me lo sono dimenticato, lo facciamo pure con molta calma, molta tranquillità e molta sapienza. E, sì, io direi anzi di farla subito, così ci vediamo proprio il pensiero. 26 mi bastano, sai che non mi ricordo se 26 mi bastano? Se 26 gradini mi bastano? Non mi ricordo, non mi ricordo. Però intanto mettiamo il, allora, gli facciamo questo, il replay dell'episodio di ieri. Quindi mettiamo, la faccio dello stesso colore, signori, per non alterare troppo la visione, praticamente. Così e così, ok. E poi di qua saliamo, sali uno. No, così, porca. Ce li ho contati, i gradini, mannaggia a te. Uno, ok. E due, va bene, questa parte ve la taglio di nuovo, signori, perché comunque l'abbiamo vista ieri, l'abbiamo vista ieri, quindi diciamo che questa parte ve la taglio, ve la taglio. Poi vi faccio vedere il risultato finale. Il risultato finale. Ok, signori, ho fatto la doppia rampa e questo è quello che è uscito fuori. Guardate che cosa spettacolare. Dai, dai, quantomeno fa movimento, fa movimento, mi piace, è particolare. Tra l'altro le scale si incrociano, quindi ho dovuto fare una sorta di incrocio particolare, perché vedete, se ora saliamo da questa parte, possiamo salire da tutti e due lati. Qua dietro ci incrociamo con l'altra scala e ho lasciato un passaggio sì, un passaggio no. Stessa cosa davanti, un passaggio sì, un passaggio no. E si sale su, signori. Mi piace, mi piace questa cosa. Mi piace tanto. Dobbiamo semplicemente allevare questo blocco di qui, che ora qui è diventato troppo alto. Dove sono i blocchetti che mi sono rimasti? Sì, siete voi? Sì, sono loro. Aspettate, da questa parte come ho fatto? Blocco alto, basso, basso. Blocco alto. Ah, quello l'ho lasciato a tre. Ah sì, ok, qui è da modificare la scala. Qui è da modificare la scala. Dobbiamo riportarla una più indietro, perché giustamente... Dobbiamo riportarla una più indietro. Ok, va bene. 5 secondi a fare questa piccola modifica. 1, 2, 1, 2. Così di qua saliamo. Perfetto. Ok, ok. Ci siamo riusciti, ci siamo riusciti. Mi metti una torcina qua, però? Perché se no... Ecco, così. Mi piace di più. Mi piace di più. Una torcia anche qui. Una qui. Questa la leviamo. Che tanto dovremmo riuscire a illuminare? Tutto abbastanza in maniera fluida. Ho preso l'altra pietra? No, dobbiamo andare a recuperare l'altra pietra. Veloce, 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 veloce. Ricopriamo l'altra pietra. Ho recuperato del legno. Allora, la pietra in più che noi abbiamo dovrebbe essere qua. Questa cassa dovrebbe essere piena di pietra. Perfetto. Già abbiamo due di questi che ci servono. Ottimo. Pieghiamo un altro po' di questi, di questi di qua. Che ora li trasformiamo. Il legno, legno, legno. Abbiamo questi dieci, questi dieci di qua. Che non mi ricordo mai come si chiamano. Comunque di quercia, di quercia. E pigliamo gli altri cinque. Così vediamo quante casse riusciamo a fare. Ovviamente non voglio fare tutto, con tutto il legno che ho, tutte le casse. Perché se no ci perdiamo di casa completamente. Ci perdiamo completamente di casa. Saliamo su, saliamo su, saliamo su, saliamo su, saliamo su. Lato esterno. Occhio che si vola giù. Attenzione. Questo è un piccolo problema che risolveremo con delle fence che ci salveranno la vita. Ok. Dovrei avere la crafting table. Quindi per fare quelli devo fare così. Perfetto. E li ciappi tutti. Poi prendi questi e li fai ancora così. E li ciappi tutti. Perfetto. Ne abbiamo 64,2. Penso mi bastano, signori. Se non mi bastano facciamo gli altri. Senza problemi. Quindi così. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. No. Tra l'altro io ho un piccone di pietra, signori. Che è proprio brutto. Perché ho finito tutto il ferro. Dovrei andare a cucinare quello che mi è rimasto. Ma domani, signori, si va in esplorazione. Domani si parte per andare a cercare il villaggio, signori. Dobbiamo trovare i villaggeri. Dobbiamo trovare un villaggio di villaggeri, unirli, portarli a casa nostra, farli riprodurre e avere i villaggeri vicino a casa nostra, signori. E i prossimi obiettivi sono questi. Dobbiamo andare alla ricerca dei villaggi. Da domani si parte all'avventura dei villaggi. Abbiamo finito? Oh, abbiamo già fatto tutto, signori. Siamo riusciti. Cosa ci rimane da fare? Ci rimane da creare altre casse, come se non ci fosse un domani. Riesco a trasformare questo in 60. Quante casse riesco a fare? Quante casse riesco a fare? 10. Con questo quante casse riesco a fare? Altre 3. 6 e 4, 8. Forse ci riesco... No, 4 e 2, 6. Comunque, pezzo di ignorante che non sono acciuto. Del legno perso da qualche parte. Sì, queste due. Dai. Ok. Così abbiamo 14 casse. Così iniziamo a dare un attimo la forma al nostro magazzino, signori. Saranno tutte doppie casse. Così non abbiamo il minimo problema di spazio, signori. Decisamente no. Dai, è così. Dai, è così. E già abbiamo finito. Già sono finite le casse. Va bene. Va bene. Va bene, signori. Dai. Non è male. Non è male. L'ultima cosa che ci rimane da fare per completare tutto quanto... E a parte va bene... No! No! Mamma mia, mi si è mosso il mosto e stavamo volando giù in maniera troppo veloce. Troppo veloce. L'ultima cosa che ci rimane da fare, signori, è mettere del legno. O del legno diverso? Io no, perché me lo sono sparato tutto là. Quindi mettiamo del legno questo di qua per ora, così va bene. Facciamo dei cartelli. Facciamo dei cartelli. Potremmo fare semplicemente la pozza d'acqua in discesa, ma facciamo sempre le stesse cose, non ha molto senso. Facciamo dei cartelli. Me ne servono 4, se non ricordo male. Così me ne da 3. 3 mi bastano? 3 mi bastano... No, me ne serve un altro. Me ne serve un altro se la matematica non mi inganna. Se la matematica non mi inganna, me ne serve un altro. Ok. Che facciamo così e facciamo così. Perfetto. Questo lo mettiamo di qui. I cartelli che li abbiamo fatti pure scuri, così proprio siamo in pandan con tutto. Li mettiamo, allora... I cartelli li mettiamo uno qui senza scrivere niente. Un altro qui. Uno qui. E un altro senza scrivere niente. E un altro qui senza scrivere niente. Ora dobbiamo semplicemente recuperare l'acqua. Qua tanta acqua, di qua moriamo male, quindi scendiamo da casa nostra. Signori, recupero l'acqua. La metto sopra i cartelli in modo tale da bloccarla. Purtroppo abbiamo un solo secchiello a disposizione, perché là ci sono tutti i pini di lava, quindi dovrò fare vari viaggi. Ma ve lo taglio, signori, non vi preoccupate. Ve lo taglio, ve lo taglio. Ok. Secondo secchiello d'acqua recuperato. Recuperato alla velocità della luce, signori. Lo mettiamo, se non vado sbagliato, lì. Dovremmo avere una sorta di fonte d'acqua. Perfetto. Proviamo a salire su. Proviamo a salire su, signori. Dovremmo riuscire a, levando la terra, a lanciarci senza morire. Quindi leviamo questa terra di qua. E facciamo il tentativo, signori. Proviamo. Scendiamo. Biscesa veloce ottenuta. Signori, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi abbiamo creato il nostro nuovo magazzino che ora praticamente dovremo andare tutto quanto a sistemare con i materiali giusti, con le casse e sistemare tutti i materiali al loro interno. Detto questo, signori, io vi ringrazio per guardare questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo tenuto. Bella raga. Ciao. Ciao. Ciao.